buona serata e benvenuti a benevento siamo nell'episcopio di benevento in compagnia di sua eccellenza monsignor felicia crocca arcivescovo di benevento grazie per la sua disponibilità eccellenza tra qualche ora accoglierà papa francesco certo è motivo di gioia indubbiamente la venuta di papa francesco tra noi motivo di gioia per pietra il cine primo a per tutta la nostra chiesa beneventana e direi anche per tutto il sannio in maniera più ampia e questa visita del papa a mio avviso in qualche modo riporta al centro dell'attenzione un dato che è scontato di per sé eppure è passato sotto silenzio cioè che padre pio è sannita è cresciuto qui bisogna anche pensare che nell'esistenza del giovane sacerdote c'è una parentesi di sei anni che lui vive a pietralcina di nuovo lui è stato ordinato qui nel duomo nella cattedrale di benevento dall'ausiliare allora monsignor schinosi il 10 di agosto del 1910 ma poi fino al 16 lui celebra la prima messa appunto a pietralcina il 14 di agosto qualche giorno dopo l'ordinazione e poi fino al 1916 lui resta quindi è cresciuto qui è nato è cresciuto fino alla sua adolescenza poi vi è tornato lui primi anni di sacerdozio li ha vissuti qui tra la sua gente certe espressioni che lui diceva fino alla fine era il dialetto che ha imparato ora questo a noi fa piacere venga portato all'attenzione non per pesi di orgoglio campanilistico che è stupi sarebbe stupido anche perché aiuta a capire di più l'uomo il religioso il sacerdote credo che questo poi a questo si aggiunge la gioia per la venuta per la venuta del papa noi riceviamo la visita del successore di pietro la visita del vescovo di roma quella chiesa che presiede nella carità tutte le altre chiese e allora siamo anche desiderosi di ascoltare la parola del papa è impossibile che il papa ci indichi delle mete ci dia qualche criterio qualche indicazione per quello che sarà il nostro il nostro cammino per il futuro adesso non so certamente cosa dirà ma tutto quello che il papa ci dirà sarà per noi occasione di riflessione e anche poi di discernimento ulteriore lei cosa chiederà al papa a nome anche di quest'arcidiocesi ma cosa chiederò al papa ancora non ci ho pensato sto pensando in queste ore proprio alle due paroline che dovrò dire perché ero due parole è il papa che deve parlare non io io lo saluterò ma io vorrei dire santo padre ci indichi qualche priorità ci dica lei qualche priorità sulla quale dobbiamo scommettere grazie grazie eccellenza e tutto da benevento e quindi l'invito ad essere presenti a pietrelcina per vivere questo evento di grazia un evento di grazia con papa francesco grazie a un evento di grazia si grazie a papa francesco per questo evento di grazia e grazie a san pio che lo ha provviziato a voi